Si affievoliscono ora dopo ora le speranze di ritrovare Michele Cilli ancora in vita. Parenti ed amici del 24enne barlettano scomparso otto giorni fa nel mezzo di una festa notturna organizzata in un bar del centro cittadino hanno avviato le ricerche del suo corpo tra le campagne e alla periferia della città senza al momento approdare a nulla. La polizia ha identificato ed ascoltato l'ultima persona ad aver visto Michele Cilli prima della sua scomparsa. Si tratta di un noto esponente di uno dei gruppi criminali che a Barletta controllano il traffico di marijuana. Lo conosceva bene Michele Cilli, anche lui vicino agli ambienti dello spaccio. Tra i due in passato c'erano stati degli screzzi ma la sera della festa il clima appare sereno ed il 24enne accetta senza problemi l'invito a fare un giro nella macchina dell'uomo, una golfo scura con targa di importazione. È l'1.30 di notte ed i Michele Cilli si perdono definitivamente le tracce. Dopo tre quarti d'ora l'uomo alla guida della golf fa ritorno alla festa per prendere la sua fidanzata rimasta nel locale. Michele non è più con lui, alla polizia racconterà di averlo accompagnato a casa. Una versione che non convince gli inquirenti dal momento che Cilli ha lasciato la sua auto nei pressi del bar della festa con all'interno giubbotto e chiavi di casa. La polizia scientifica ha preso in consegna la golf su cui è stato visto entrare il 24enne prima che svanisse nel nulla, la ricerca di tracce che possano spiegare cosa gli sia accaduto. Nel frattempo la prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mentre la polizia ha intensificato le ricerche sia nella zona di Via Trani che in località Fiumara avvalendosi di cani molecolari, droni ed elenuità specializzate dei sommozzatori. Le indagini coordinate dalla procura di Trani proseguono con il massimo riservo, tutto lascia pensare ad un caso di Lupara Bianca che, se confermato, potrebbe far esplodere le tensioni tra i gruppi criminali che si contendono il controllo dei traffici illeciti in città. Tre mesi fa a Barletta moriva un altro 24enne, Claudio Lasala, ucciso con una coltellata sferrata da un 17enne che frequentava lo stesso giro di pericolose compagnie di Michele Cilli.